Finisce l'estate e cominciano i problemi scolastici. Le scuole in questo periodo si attrezzano e cominciano a preparare gli ambienti e quanto serve per dare un servizio adeguato ad alunni e genitori. Ma non mancano anche quest'anno problemi che attengono alla gestione ordinaria degli istituti scolastici. Non ultimo, fra le tante preoccupazioni, il possibile rincaro del costo dei libri di testo. Rincaro che avviene quasi ogni anno in quanto le case editrici aumentano sistematicamente del 10% il costo dei loro prodotti. Per cui lo Stato ha dato ai docenti che dovrebbero entro maggio adottare i libri per i propri alunni un budget entro il quale contenere la spesa. Ma c'è qualche dirigente che in maniera molto intelligente ha escogitato un qualcosa che potrebbe risolvere il problema della spesa per i genitori degli alunni. Stampare in proprio un testo che sia trasversale per varie discipline e che possa servire senza spendere alcunché ad alunni e docenti. Ma ascoltiamo la docente dirigente della scuola Criscuolo di Pagani che ha ideato e ha proposto questa iniziativa. Perché non possiamo provare? Noi proveremo quest'anno a produrre per le prossime prime dei materiali snelli, ovviamente in forma gratuita per i ragazzi che si iscriveranno da noi, almeno delle discipline che hanno una valenza trasversale, del tipo per esempio educazione all'immagine, insomma storia dell'arte, tecnologia e anche stiamo pensando educazione musicale. Per cominciare a ragionare in termini diversi. Il discorso web che si affiancherebbe a questo, il discorso didattica multimediale, le tante lim che stanno arrivando grazie ai fondi europei, poi potranno andare ad integrare questa dotazione. Però noi cominciamo a ragionare in termini di indicazione nazionale, di essenzializzazione del curriculum e su questi nuclei essenziali e fondanti proveremo a fornire ai nostri allievi come dire un minimo imprescindibile su cui cominciare poi a sviluppare altre didattiche. Il discorso sarebbe solo la carta? Sì, stamperebbero praticamente improprio quelli che sono i materiali prodotti dalla scuola.